Italia ascolta il piave, la voce dei nonni in grigio verde, un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Buonasera, buonasera, bentornati, Italia ascolta il piave, ultima puntata di una serie che è durata quattro anni ma che non finisce qui. Buonasera a tutti, Gianluigi, Radio Vacanze, Italia ascolta il piave. Grande puntata e grande trasmissione. Abbiamo tanti ospiti ed è una giornata importantissima. Allora subito, subito i numeri per entrare in contatto con noi al 320 46 87 503 avremmo più di sette ospiti in trasmissione, un'ora e mezza di puntata, qualcosa di veramente grande, grande per ricordare i nostri nonni in grigio verde. Subito con la nostra amica Barbara Denardi, l'assessora al centenario della Grande Guerra del Comune di Vittorio Veneto, perché va di corsa, sta presidiando la cerimonia ma non voleva perdere questa ultima puntata dell'Italia ascolta il piave. La nostra amica Barbara, benvenuta, come stai? Siamo qui un po' in una situazione precaria, mettiamola così. Un po' presa, diciamo, via. No, no, un po' precaria, nel senso che purtroppo ieri sera il maltempo si è appazzuto in modo violento contro una parte della città, abbiamo una parte della città a buio, delle persone che sono ancora senza acqua. Giusto per darvi un'idea, il vento ieri sera ha divelto un casello dell'autostrada praticamente. Ah ecco, proprio per dire, se ce la vogliamo raccontare, è stata veramente dura, una bella difficoltà, insomma, un paese un po' particolarmente colpito. Nonostante questo, l'esercito è riuscito a allestire anche sotto il diluvio l'area espositiva, per cui purtroppo la manifestazione prevista per questa sera dovrà in gran parte svitare a domani. E domani dovrebbe il cielo assisterci. Un po' più clemente. Esatto, e quindi riusciremo a fare la cerimonia con il capo di stato maggiore dell'esercito, per l'esercito vince. Certo. Questa moledita è un bel tempo che è un po' può. Ricordiamoci che questa cosa, quando succedeva cent'anni fa in quei buoni ragazzi dentro le trincee, ma chi li riparava? Esatto, tra l'altro ricordiamoci che la battaglia di Vittorio Vane che inizia il 24 ottobre, ma solo il 27, l'esercito italiano riesce a passare il piave, perché appunto il piave era in piena. Ecco, sembra un film che si ripete, no? Come a testimonianza. La provincia di Treviso e di Venezia sono abbastanza fragellate in questi giorni, insomma ci sono diverse situazioni molto critiche. Il reggimento Vacunari Serenissima è impegnato in provincia di Treviso e anche nella presidenza. A dare una mano, certo. Ma così lo stanno in giro per tutta Italia gli assetti specialistici dell'esercito. Sì, sì, no, come si dice sempre, gliene dicono di peste di corna, poi alla fine quando c'è bisogno chiamano le sterlette, come sempre. Insomma, non è una novità, è stata sempre così. Insomma, chi la seguite queste vicende purtroppo è così. Senti, io invece ti volevo dire che le foto che hai mandato ieri per la cerimonia che è stata veramente qualcosa di fantastico. Sì, sì, devo dire assolutamente sì. Direi proprio di sì. Carissimi amici dell'ascolto, la nostra amica, la dottoressa Barbara Denardi, ha avuto l'onore di andare a prendere il sacro fuoco della patria, appunto il nostro suo altar a Piazza Venessa, per portarlo a Vittorio Veneto. Io penso che un'emozione così grande nella tua vita te la ricorderai sempre, proprio perché è una cosa unica al mondo quella che hai fatto tu ieri. Sì, assolutamente, è stata una cerimonia straordinaria, molto breve, molto intensa e assolutamente significata per il mondo. Sono quei momenti di vita che hanno un valore superiore a tante altre cose, non c'è niente da dire. Devo dire che forse è un segno del destino, quando il 4 maggio di quest'anno abbiamo pensato proprio alla tale della patria, ci è venuto in mente come realizzare questa iniziativa e come farla partire. Questo esercito vince. Era appena terminato un forte temporale su Roma e ieri mattina alle 9 e mezza, con una cerimonia prevista per le 10, improvvisamente ha smesso di piovere, anzi di diluviare, perché sapete benissimo qual era la situazione a mezzo a ieri a Roma. E alle 10 c'era anche un leggerissimo sole, per cui forse era proprio un segno del destino. Purtroppo a Vittorio e a Maneto non siamo già riusciti a fare lo stesso, effettivamente adesso non piove, però appunto come vi dicevo la situazione in giro per il territorio comunale è ancora abbastanza critica. E quindi diventava anche difficile gestire la tranquillità delle persone che avrebbero partecipato, soprattutto l'incolumità di questa... insomma uno deve anche pensare, viva Dio, siccome ci mancherebbe altro. Noi siamo, come si dice, siamo anche coerenti tra quello che uno dice e quello che poi uno fa, ma bisogna pensare anche alla tutela delle persone, questo è poco ma è sicuro, non ne cambia dubbio. Comunque cambia poco, poi insomma metterà le foto. C'è anche la tenda TV come al solito a riprendere, giusto? Sì, assolutamente, domani ci sarà la tenda TV che unirà alle immagini registrate dallo Stato Maggiore Esercito ieri, quelle di domani e quindi poi sulla tenda TV riusciremo anche a vedere il video complessivo di questi momenti. Bene, perché ti devo dire che io l'ho visti tanti ed sono stati veramente bravi, hanno fatto un gran bel lavoro, niente da dire, sono stati veramente professionali. Sì, sono domani molto bravi. Mi piacerebbe, mi piacerebbe qualche giorno incontrarli perché sono stati bravi e come si dice, quando uno è bravo gli va anche riconosciuto, ecco questo è un po' il nostro modo di fare, chi ha valore lo mette in campo e gli altri glielo riconoscono, questo è così. Allora domani questa manifestazione come si articolerà? Alle 10 e mezza, circa 10 e un quarto, arriveranno i lancieri di Montebello e i bersaglieri ciclisti che porteranno la lanterna che abbiamo usato ieri per prelevare il fuoco all'altare della patria, poi si schiererà il reggimento di formazione, si schiererà la banda della Pozzolo del Friuli, arriverà il generale Farina e davanti a circa 800 studenti perché le scuole del territorio hanno risposto veramente in massa, si svolgerà una cerimonia di ricordo della fine della Grande Guerra con i discorsi del sindaco e del generale Farina, poi consegneremo ai due militari dell'esercito il premio Vittorio Veneto Città della Vittoria che è giunto alla quarta edizione e poi i bersaglieri ciclisti e i lancieri di Montebello partiranno per Trieste con la lanterna. E vabbè, è una cosa molto molto toccante, sicuramente vale la pena. Allora ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio per essere stata qui con noi per la puntata finale. Grazie a voi, buona serata. Non è finita qui la battaglia continua con la memoria, intanto per rimanere in tema era una notte che pioveva, così perlomeno non abbiamo staccato di tanto. Ciao, assolutamente, ciao, grazie. Ciao Barbara, buona serata. Allora, chiarissimi amici dell'ascolto, per noi era una notte che pioveva. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che grande tormento per un alpino che sta a vegnar. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. O sentinella, torna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Quando fui stato nella mia tenda, senti un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rocola, mentre dormivo sotto la tenda, sognavo d'essere con la mia bella. E invece ero di sentinella, fare la guardia allo straniero. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ed eccoci qua, bentornati in trasmissione da Gianluigi per Vacanza la radio, il programma L'Italia Ascolta il Piave. Che ricordo, questa è soltanto l'ultima puntata di un ciclo che è cominciato quattro anni fa. Perché la battaglia più grande che abbiamo fatto insieme a tanti amici e tanti ospiti che ricorderete oggi, abbiamo raccolto testimonianze, affetto, simpatie. Qualche volta ci ha fatto un po' più male, qualche volta ci ha dato anche più soddisfazione raccontare la vita di questi ragazzi, la realtà, quello che loro toccavano tutti i giorni. Era importante portarlo a testimonianza. Abbiamo fatto con tanti storici e con le musiche dei nostri amici alpini, in particolare il coro della Brigata Alpina Tridentina diretto dal nostro amico Giordano Zacchin e il coro Anaroma. Dunque, tante brave persone che hanno aiutato il programma ad andare avanti. Ma ne sentiremo mano a mano stasera tanti di loro che non hanno voluto mancare all'appuntamento con l'ultima puntata di questo nostro programma. In particolare vi voglio far raccontare dal nostro amico Pierpaolo Cervone, che è lo scrittore che per Murcia ha scritto veramente tanto col tema della Grande Guerra e ovviamente ha sicuramente qualcosa in più da dare dal punto di vista dell'informazione. Buonasera Paolo, ben trovato, come stai? Buonasera a tutti voi, bene, grazie. Anche noi, anche noi stiamo bene. Oddio, qui il tempo è micidiale. Liguria, come avete letto, guardando i telegiornali non stiamo molto bene. Ma insomma, perché c'è questa emergenza che prosegue, ha già provocato danni nei porti, sulle strade. Incredibile, la violenza del mare e del vento hanno fatto veramente un disastro. Eh, quando ci si mette. Mi diceva la dottoressa Barbara De Nardi che anche a Vittorio Venoso sembra che si stia replicando il piave ingrossato, no? Queste cose, sembra fatte apposta. È risondato anche in più punti il piave, sì. Ecco, quando si dice che non potevano avanzare perché il piave era ingrossato, era praticamente la stessa situazione. Eh sì, sì, sì. Sembra quasi che hanno voluto ricordarlo, no? Anche il padre Eterno ci ha messo... È vero, è vero, è vero. In quei giorni il popolo generale Caviglia guardava sempre i bollettini per capire quando e come avrebbe potuto passare il piave nella famosa battaglia di Vittorio Veneto. Certo. Di cui questa sera credo parleremo, perché ormai ci avviciniamo al centenario della battaglia, al centenario della fine della prima guerra mondiale sul fronte nostro, perché sul fronte occidentale si concluderà soltanto l'11 novembre del 1918, mentre noi la facciamo finire il 4 novembre del 1918. E se finisce l'11 novembre del 1918, un po' di merito lo dobbiamo anche al tanto vituperato e contestato l'esercito italiano che ha battuto peraltro un esercito imperiale molto forte come era quello austro-ungalico che peraltro aveva già subito ingentissime perdite soprattutto sul fronte orientale contro l'imponente esercito russo. E se sul fronte occidentale il conflitto termina una settimana dopo è perché la Germania non aveva più il sostegno dell'esercito alleato dell'impero austro-ungalico, quindi almeno questo lo dovrebbero riconoscere. Invece la storiografia, specialmente quella francese, quella tedesca, quella inglese, hanno sempre ignorato la battaglia di Vittorio Veneto, hanno fatto finta che non ci sia neppure stata la battaglia di Vittorio Veneto, è stata ridicolizzata dagli storici francesi e britannici sostenendo che in effetti l'esercito austro-ungalico si è arreso dopo alcuni giorni di battaglia perché ormai i soldati avevano capito che quell'impero era in disfacimento e quindi i soldati polacchi, soldati bosniaci, soldati che provenivano dall'Ungheria, dall'Ungheria, dalla Repubblica Ceca, da tutti i paesi che facevano parte dell'impero austro-ungalico, hanno pensato più alle popolazioni che avevano lasciato nelle loro case, hanno pensato più al futuro molto incerto dei loro paesi di provvedienza che non a combattere contro l'esercito italiano perché sapevano che non erano neppure più nelle condizioni di poter far fronte all'esercito italiano in questa battaglia e che noi eravamo arrivati comunque più preparati, più forti, più convinti di loro dopo che li avevamo fermati nella battaglia del sostizio del 15 giugno 1918, chiamata così da Gabriele D'Annunzio, e che avevamo fatto svanire le ultime speranze austro-ungariche di riuscire a batterci nella Prima Guerra Mondiale. Per cui un po' di merito lo vogliamo dare al nostro esercito, possiamo riconoscere il generale Diatra, il generale Caviglia che ha comandato le tre armate che passano il piave nella battaglia decisiva, oppure dobbiamo ridicolizzare tutto e dire come fanno i francesi e gli inglesi e i tedeschi che la battaglia di Vittorio Veneto non c'è stata. Io credo che ci siano state. Guarda, io ho una mia opinione talmente personale e sembra che i giochi si ripetano anche adesso, se vediamo l'attuale situazione politica, sembra che l'Italia grande dia fastidio a tutti, in poche parole, in qualche maniera. Non so perché è stato sempre così, no? Te lo ricordi anche nella storia Francia-Spangia, purché Semania, no? Questa realtà che non ci appartiene poi, perché conoscendo le persone, noi che frequentiamo il territorio, non c'entra assolutamente, gente valida, capace, l'abbiamo sempre avuta. Forse è pure uno di questi dei ritrattati di Versailles, che si è alzato, appunto, sarebbe pure da parlarne, perché se è andato e si alzò la ritrattata di Versailles, il nostro rappresentante del governo. Forse penso che pure per questo, perché comunque non ti riconoscevano niente, in poche parole, quasi presi in giro. Poi davanti alla conferenza della pace, per l'amore di Dio, sarebbe un altro capitolo da aprire, che però questa sera non credo che non saremo a sviscerare. Detto ciò, comunque, insomma, la battaglia di Medvedere ha avuto lo soccorso, è finita in un certo modo. Io credo che a 100 anni di distanza, io credo che occorrerebbe lanciare un duplice appello. Intanto restituire a questa data del 4 novembre del nostro calendario la dignità che diventi un giorno festivo, ma una dignità anche che venga indicata da parte delle nostre istituzioni, che è la festa della vittoria, è la festa del giorno, per ricordare il giorno in cui l'Italia vinse la Prima Guerra Mondiale. Poi io capisco che il fascismo ha strumentalizzato questa data, questo evento, perché è sulle ceneri della Prima Guerra Mondiale che Benito Mussolini è riuscito a prendere il potere, strumentalizzando tutto quello che era accaduto negli anni precedenti. Ma almeno, almeno, riabilitiamo la memoria di quei poveri ragazzi che sono stati fucilati nella Grande Guerra da Plotoni di esecuzione, dopo inchieste rapidissime, dopo che non erano stati trovati responsabili di determinati fatti, avvenivano le cosiddette decimazioni, e questo paese non li ha ancora riabilitati questi soldati, che sono stati ingiustamente, perché non erano loro i colpevoli dei fatti che venivano accaduti, quindi ne prendevano a caso dieci e venivano portati davanti a Plotoni di esecuzione. Due anni fa, la Camera e il Senato hanno provato finalmente a mettere fine a questa negazione, portando un disegno di legge che è stato approvato dalla Camera, ma poi al Senato si è bloccato, dicendo che non c'erano i fondi a disposizione per ridare dignità a quei poveri soldati che sono stati fucilati nel corso della Grande Guerra. Io credo che il Parlamento possa riprendere in mano questo testo, possa capire e vedere se c'è la possibilità, finalmente a cento anni di distanza, di riabilitare quei militari che hanno avuto questa tristissima fine. Sì, ma poi torno a dire, che vuol dire i fondi? Basterebbe poco, voglio dire, anzi quasi nulla. Però occorre che la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica trovino anche le risorse da dare poi alle famiglie di questi soldati che per cento anni non hanno percepito una lira di pensione, perché essendo considerati traditori, essendo considerati colpevoli da parte della giustizia militare, e quindi non essendo rientrati in quell'elenco di persone che avrebbero avuto l'abilità di ricevere anche loro una pensione di guerra alle vedove, ai figli, ai nipoti, quindi c'è anche un costo economico, per l'abordi di Dio, il costo economico ci sarà, però vediamo se possiamo reperire queste risorse per dare in modo dignità a questi ragazzi che hanno fatto il loro dovere, che poi sono stati pescati così a sorte, perché occorreva dare l'esempio e far capire che bisogna sempre rispettare i superiori e gli ordini che arrivavano. E forse è per questo che non ho fatto il servizio militare direi ho fatto solo la leva, non si è restato un buon... tante cose non le capisco ancora, scusa, ma faccio veramente seria difficoltà, perché poi dopo... Eppure è così, mentre in altri paesi sono stati riabilitati tutti i soldati che hanno lasciato la vita nel corso della prima guerra mondiale, i disertori, quelli che hanno, che sono stati anche loro portati davanti al blottone di esecuzione, perché mica sul fronte nostro sono successi questi episodi, sono successi su tutti i fronti della grande guerra, ma a distanza di anni la Francia, la Gran Bretagna, la Germania hanno chiuso quella pagina, hanno riabilitato tutti, sia i renitenti, sia i fucilati, sia i disertori e li hanno portati tutti sullo stesso livello e tutte le famiglie di questi soldati hanno potuto percepire delle pensioni, perché il loro congiunto ha dato la vita alla patria. Questo noi non l'abbiamo fatto, abbiamo continuato a considerare i nostri prigionieri di guerra non meritevoli neppure di ricevere i patti che arrivavano dalle loro famiglie, perché abbiamo fatto anche questo, subito dopo la battaglia di Caporetto quando il numero dei prigionieri è lievitato in conseguenza di questa battaglia, noi sino alla fine della guerra, quindi per un anno, abbiamo impedito che i pacchi che partivano dalle famiglie della Campania, della Puglia, del Lazio, della Ligua, del Piemonte e destinati nei campi di concentramento dove erano stati rinchiusi centinaia di migliaia di soldati catturati dopo Caporetto che gli mandavano generi alimentari, generi di sostentamento, generi anche di abbigliamento per potersi riparare dal freddo pungente che avevano nei campi di prigionia e nelle fortezze dove sono stati rinchiusi e tutto questo è stato bloccato dalle autorità, dallo Stato italiano, dall'esercito italiano perché i nostri prigionieri sono stati tutti considerati traditori della patria e quindi non meritevoli di ricevere nessun sostegno, nessun aiuto dalle loro famiglie. Però la decisione l'hanno presa i generali di come impostare la battaglia dunque sarebbe un attimino no? Ma certamente che sì, ma certamente che sì. Ecco ci sono queste pagine che a distanza di cento anni devono anche se non le suberi non riesci mai a fare pace con te stessa. Certamente. E noi invece li vogliamo bene perché sappiamo che cosa vuol dire il freddo, l'umiliazione. Va bene così, ho passato qualche giorno a meno 22 e mi è bastato. È solo una settimana poi. E ciò figuriamoci purelli tutto l'inverno, qualcosa di fuori dal mondo. Allora niente, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima trasmissione che appunto sarà chiamata i figli del Piave perché continueremo ad avere una linea comune con quello che è successo nella prima guerra parlando dei figli generati nati durante appunto il primo conflitto che poi i poporelli insomma ecco dovranno subirsi la seconda insomma perciò di padre in figlio bella eredità gli hanno lasciato. Certamente, certamente. Mamma mia. tra cui anche i ragazzi che hanno attribuito il nome di firmato perché i genitori pensando che firmato fosse il nome di battesimo di questi illustri generali che vergavano gli ordini delle battaglie quindi firmato Cadorna firmato Dias specialmente nel meridione si credeva che firmato fosse un nome di battesimo ma non solo nella meridione ma anche nel Veneto per cui tanti ragazzi che poi sono venuti alla luce nel dopoguerra portano il nome di firmato questa è una cosa che proprio non sapevo neanche lontanamente questa è una curiosità che io vi concedo gratuitamente ma che io nei miei libri ovviamente non l'ho scritto ma nel Veneto in modo particolare in Friuli vedendo i bollettini del nostro esercito firmato Cadorna firmato Dias credevano che firmato fosse il nome di battesimo e quindi molti giovani nati molti creature nate nel migliato dopoguerra o a cavallo tra le due guerre sono con quel nome nati con il nome di firmato bene mamma mia sempre mi stupisce sempre parlare con te io credo che anche agli amici dell'ascolto capire di avere tutte queste cose allora perché io essendo un giornalista credo di valorizzare meglio le curiosità che sono emerse certo è il tuo lavoro giustamente bene ti ringrazio per Paolo allora appuntamento ti farò avere tutto il calendario così come agli amici all'ascolto della nuova edizione dei figli del piave grazie ancora e ti lascio con il testamento del capitano ciao grazie allora carissimi amici dell'ascolto dopo tutte queste curiosità che ci ha lasciato il nostro amico Pierpaolo Cervone dedico a tutti quei ragazzi il testamento del capitano per proprio far sentire lo spirito di corpo che teneva insieme questi ragazzi il capitano della compagnia silenzio rito sta per morire e manda dire ai suoi albini perché lo vengano a ritrovare i suoi albini che manca di rire che non ha scarpe per camminare o con le scarpe o senza scarpe i miei albini li voglio qua cosa comanda suo capitano chiede di noi adesso se maritano e io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia tagliato il il primo pezzo alla mia patria secondo pezzo papà il terzo pezzo La mia mamma che si ricordi del suo figlio, il quarto pezzo alla mia bella che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fiori. L'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fiori. Stai ascoltando il programma radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. E non mi stancherò mai, bentornato in trasmissione, questo è il podcast radiofonico L'Italia Ascolta il Piave, programma sulla grande guerra, sui ricordi, sulle memorie e sulla voce dei nostri nonni in grigio verde. Personalmente abbiamo sempre nuovi ascoltatori anche se nell'ultima puntata voglio ringraziare anche Daniele Di Mauro che è un fotografo, un collega podcaster che anche lui è appassionato di fotografia della grande guerra. Mi auguro di averlo presto, entra anche nella nuova trasmissione che partirà a breve, vi verò tutte quante le date. Dunque andiamo adesso invece ad assentire la voce stavolta attirata perché normalmente lui canta Giordano Zacchin, maestro del coro della brigata alpina a Tridentina. Vediamo ai nostri microfoni finalmente Giordano perché per averlo è veramente difficile, però questa volta non poteva mancare. Giordano, benvenuto Giordano, che piacere averti con noi, che piacere. Come stai? Ciao Gianluigi, bene grazie. E tu? Ah benissimo, guarda abbiamo avuto fino adesso lo storico Pierpaolo Cervone, ci ha raccontato delle cose che ci ha sconvolto il mondo. Proprio addirittura mi ha citato, poi la sentirai magari nella riproduzione della registrazione, che dei bambini venivano chiamati firmato di nome perché i bollettini di guerra veniva scritto firmato Diaz. E loro pensavano che era un nome e chiamavano il bambino firmato. Beh, la povera gente. Vi ha capito che voglio dire, io infatti dopo questa cosa ho mandato in onda la tua cantone il testamento del capitano perché veramente quello che legava questi ragazzi ai loro ufficiali era qualcosa di spettacolare perché era lo stare insieme. Veramente beata ignoranza, fa spavento a cento anni sentire ancora una cosa del genere, era una cosa incredibile proprio, ecco via. Tu che me ne dici? Ti dico che pur nella loro ignoranza perché ovviamente a quell'epoca le scuole probabilmente non erano obbligatorie o non tutti pensavano ai loro figli come ci pensiamo noi oggi. Però devo dire grazie agli alpini che erano in trincea, se c'è tutta questa cultura delle canzoni alpine e spesso erano canzoni di chiesa piuttosto che canzoni popolare che venivano modificate allo scopo di un po' passare il tempo, un po' magari trasmettere quello che stava succedendo, i loro sentimenti in un ambiente che in quel momento li costringeva o a tendere o a morire, o quantomeno a morire di paura se non morirono fisicamente. Ah sì perché anche la paura la faceva le sue vittime, come no voglia poi i ragazzi certo ci mancherebbe. Quindi nonostante questo che noi stiamo commentando ora, molti contadini, molte povere persone che venivano mandate al massacro, nonostante questa mancanza culturale, poi erano gli stessi che dall'altra parte sono stati in grado di costruire questo che noi alpini consideriamo un nostro patrimonio, ma voglio dire un patrimonio degli italiani che sono le canzoni di guerra. E sì che poi sono gli stessi che invece pur nella ignoranza come dicevi tu, però sono loro che hanno fermato sul grappa, fai come te pare, digli quello che vuoi, però la realtà poi è quella no? Beh la stessa cosa si vede nelle lettere dal fronte che noi per esempio amiamo riportare durante i nostri concerti come presentazioni delle canzoni o della nostra storia degli alpini che raccontiamo durante i concerti. Sì qualche volta c'è qualche strafalcione però la verità è che si vede che erano persone che comunque avevano dei valori, avevano un senso del dovere. Ecco questo sì, l'altro senso del dovere che comunque voglio dire da quanto vedo io ve l'ho passata ancora di generazione in generazione, quando mettete quel cappello diventa tutt'uno col senso del dovere, a prescindere dalle nuove generazioni questo ancora passa, io perlomeno da esterno lo vedo ed è una cosa veramente importante. Senti, volevamo parlare poi della tua iniziativa invece molto importante, ci tengo che tu la racconti. La mia iniziativa, la nostra iniziativa... No, io dico tua perché sto parlando con te, ma è il coro della Brigata Alpina di Ridentina. Credo che intendi il progetto BOCIA? Sì sì. La nostra iniziativa risale a 12 anni fa ed è sempre cresciuta, il nostro coro ha deciso di partecipare costantemente ai concerti, di accettarli ma senza la richiesta di un obolo agli enti, agli amici che ci invitano. Per cui noi partecipiamo e non abbiamo nessuna tariffa per la nostra partecipazione, piuttosto chiediamo di pubblicizzare questo progetto BOCIA, che è un progetto di solidarietà. BOCIA in Veneto, credo che lo saprete tutti, ma vuol dire bambino. Da 12 anni fa a questa parte via via si sono aggregate delle associazioni a questo progetto perché abbiamo cominciato con una, poi è arrivata la seconda e oggi siamo a nove, più altre che arrivano episodicamente. Queste associazioni a cui noi devosiamo interamente i proventi che la gente ci dona, delle donazioni che raccogliamo durante i nostri concerti, hanno tutte a che fare immancabilmente con dei bambini. Sono associazioni italiane, non sono associazioni o comunque operatori che stanno anche in altri paesi, tipo in Kenya, in Tanzania, in Brasile, in Abkhazia, eccetera, e hanno alcune caratteristiche. La prima l'ho già detta, quella di aiutare dei bambini, la seconda è che hanno un collegamento diretto con almeno uno dei nostri coeristi. Questo garantisce che i fondi, quando li trasferiamo, sono utilizzati interamente da chi ne ha bisogno. Certo, perciò la genuità, la correttezza che arrivano, che i soldi arrivano, non vanno spersi chissà dove, come purtroppo spesso accade. Magari non abbiamo la certezza che da altre parti accada per forza, ma senza altro possiamo garantire che per quei nostri progetti, per quelle nostre donazioni sicuramente i fondi vanno dalla parte giusta. Ecco, io qui ho il tuo manifesto, il concerto per il centenario della Grande Guerra di sabato 3 novembre. Anche questo fa parte del progetto? Sì, anche in questo concerto noi raccoglieremo i fondi per il progetto Bocia. Noi questo weekend saremo iperimpegnati perché, oltre a cantare a Quintano d'Oglio nella bassa Bresciana, sabato sera 3 novembre alle 21, dove racconteremo la storia degli alpini, il senso totale. Il primo tempo del concerto sarà dedicato interamente e con due brani netici per il nostro coro, ossia Montenero e Tapum. Vi racconteremo la storia della Grande Guerra, ovviamente vista con un taglio da alpini, ma con lo sforzo di raccontare i sentimenti, oltre che gli scadimenti. Il secondo tempo sarà dedicato invece alla Seconda Guerra Mondiale. E questo poi sarà il progetto. L'impegno continua, domenica con delle prove a Milano, perché lunedì, questo forse non lo sapevi, lunedì, l'Associazione Nazionale Alpini, anzi il COA, il Comitato Organizzativo della Donata di Milano 2019, ci ha chiesto di partecipare insieme all'Orchestra Art Ensemble ad un concerto, a una rievocazione con attori e con orchestra della Prima Guerra Mondiale. Quindi anche questo si chiama Conflitto e Castigo, ed è un'idea del maestro Maurizio Mune, si svolgerà lunedì sera alle 21 al Teatro d'Alverme, in via Giovanni sul muro a Milano, quindi zona centro, piatta Castello più o meno. Esatto, dunque è fatto bene. Devo ringraziare l'Associazione Nazionale Alpini che ha pensato che come idea, visto che l'ingresso è gratuito, anche lì ci sarà una raccolta fondi per il nostro progetto BOCI. Quindi cosa vi devo dire? Venite, partecipate. Dopo stiamo cercando di dimostrare che gli alpini, insieme a tutti i militari che combatterono all'epoca, tengono la patria, ma tengono a dare un mondo migliore ai loro figli. Poco, ma è sicuro. Credo che la patria deve umanità al mondo e vorremmo lasciare un mondo migliore ai nostri bambini. anche noi. Allora io proprio ho preparato il tuo brano, 33, valore alpino, e te lo dedico e ti auguro un mondo di bene e ti ringrazio per avermi aiutato con le tue canzoni del coro della Brigata Alpina di Tentina in congeto a sviluppare questo programma per quattro lunghi anni. Veramente grazie di cuore, Giordano. Veramente grazie a te e a te. Grazie a te, Luigi. Ci sentiamo per la prossima. Hai avuto questa grande idea. C'ho solo un difetto, sono un stiliero. Non ho un difetto. Ciao, di nuovo, grazie con questo sfottore, grazie a te. Allora, carissimi amici, come vedete, fra di noi ci si sfotte perché la rivalità d'arma, lo spirito, insomma, c'è sempre, c'è questa sana voglia di prendersi in giro. Viva Dio, abbiamo ancora veramente tanto da raccontare. Allora, dal coro della Brigata Alpina Tridentina in congeto, 33, Palore Alpino. Allora, carissimi amici, come vedete. Grazie a tutti. 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 per seguire il Master e in quel periodo andando e tornando mi piaceva scrivere le mie emozioni. Come no? Siamo qua apposta. Grazie Gianluigi. Si suole a volte rimembrare viaggi che pensavi senza data e senza meta. Quei viaggi immaginati senza un giorno che avesse già previsto anche il ritorno. Un viaggio sopra un mare sconfinato, sopra una vela gonfia per il vento e gli spruzzi dell'acqua sulla fronte asciuga il sole quando il sole splende. Un viaggio dove l'alba mai finisce, una partenza da mettere in cornice. Se cerchi un posto nella tua memoria trovi dei luoghi che ti sono cari, rampe di scale sempre da salire, balconi che si affacciano sul mare, un orologio che non suona l'ora. Quello era il viaggio che volevi fare. Grazie a te Gianluigi, grazie a tutti gli amici che sono all'ascolto anche per questa possibilità di fare sentire ancora una volta anche la mia modesta voce. E' un piacere, lo sai, lo faccio molto volentieri, lo dedico a tutte le persone all'ascolto. Un saluto allora e un abbraccio di tutto cuore a te e a tutta la tua famiglia, grazie per essere stata vicino al programma. Un abbraccio ancora, buona serata. Ciao Caterina. Grazie, una buona serata anche a te. Montenero del coro Ana Roma Punta l'alba del 16 giugno Comincia il fuoco dell'artiglieria Il terzo alpini è sulla via Montenero a conquistare Il terzo alpini è sulla via Montenero a conquistare Montenero, Montenero Traditore della vita mia Ho lasciato la mamma mia Per venirti a conquistare Ho lasciato la mamma mia Per venirti a conquistare Per venirti a conquistare Abbiamo perduto tanti compagni Tutti i giovani sui vent'anni La sua vita non torna più Tutti i giovani sui vent'anni La sua vita non torna più Coronello che mi piaceva Nel vedere tanto macello Fatti coraggio alpino Per lo che l'onore sarà per te Fatti coraggio alpino Per lo che l'onore sarà per te Fatti coraggio alpino Per lo che l'onore sarà per te Stai ascoltando Tornati a voi che ci seguite da quattro anni Sono anni importanti Anni in cui abbiamo ricostruito Veramente tanto Abbiamo dato spazio a molte voci Molti amici Tanti storici Tanta musica E soprattutto tanta verità Uscita da gente comune Ed anche io ho ricevuto rinforzi Però adesso È venuto il mio amico Enrico Granadiario di Sardegna Fonico della radio Ed è colui che ha seguito Insieme a me Anche il raduno dell'arma artilleria A Monte Beluna Ciao Enrico E benvenuto Ciao Gigi Ciao a tutti gli ascoltatori Buona serata È una serata importantissima Ci stiamo regalando Un'ora e mezza di programma E devo dire che Anche i nuovi ascoltatori Come Andrea Ciaravolo Un altro nostro amico Della provincia di Modena È rimasto un po' perpresso Diceva Madonna quanta gente Ascolta questi programmi ancora Beh Fa piacere appunto Saperlo che questa È una trasmissione Che ha dato Senza ritorica Con molto piacere E tanto interesse E una condivisione Di programmi Allora Un altro storico Un altro amico del programma Andrea Rebora Non poteva mancare Neanche lui In questa puntata Particolare Di chiusura Per raccontare Quello che è stato Il suo grande contributo Al nostro programma Andrea Buonasera Ci sei? Buonasera Gianluigi Un saluto a te Tutti i radioascoltatori Un saluto che Sarà un arrivederci Ah ecco Perché come hai anticipato Poc'anzi Infatti La trasmissione Riprenderà poi Coi figli del Piave E quindi Continueremo A parlare Di Di nostri ragazzi I nostri ragazzi I nostri ragazzi I nostri avi Che tanto hanno fatto Per la nostra parte Fa un certo effetto E fa un certo effetto Parlare di nostri nonni E chiamarli ragazzi No? Perché in realtà Questi sono ragazzi Che avrebbero Cent'anni Ma per noi Sono i nostri ragazzi Eh sì Però All'epoca Erano ragazzi Di 18 19 20 anni Poco più I più Anziani Che presero parte La prima guerra mondiale Erano già degli uomini Perché sappiamo Che fu Chiamata come ultima leva Quella del 1874 Cioè come prima leva E quindi Diciamo Si può parlare Di una generazione Intera Che prese parte La prima Poi un'altra generazione Che prese parte La seconda guerra mondiale Mamma mia Io tante volte Penso A chi È caduto Nella prima guerra mondiale Magari il figliolo È caduto Nella seconda Eh sì Perché ci sono stati Sicuramente Di questi casi Sicuramente Perché Con oltre 600 mila Caduti Nella prima guerra mondiale È stato sicuramente Frequente Avere un altro lutto Nella seconda guerra mondiale Per molte famiglie Poi ricordiamolo Moltissime famiglie Ebbero Più lutti All'esterno Dello stesso conflitto Sappiamo Di casi In cui ci furono Famiglie Che durante La grande guerra Persero Due O tre O quattro figli Addirittura Mamma mia Qualcosa di Innominabile Intanto Come avrai sentito Dietro a me c'è Enrico Granadieri Sardegna Mio fonico Della radio E co-conduttore Stasera del programma Ti dà il benvenuto Anche lui Buonasera Benvenuto Ti ringrazio Ti ringrazio moltissimo Un piacere Un piacere mio Lui sarà con noi Anche nella seconda parte Tu devi sapere Caro Enrico Che non hai avuto Il piacere di conoscere Di persona Andrea Rebora Andrea Ecco Dilo tu Chi era lo zietto Dai Forza Se non sembra brutto Ti faccio Reglame Sì Però il nonno Non è lo zietto Il nonno È ragione Scusa Il nonno Era un piccale carrista Della divisione Corazzata Riete Che prese parte A tutta L'epopea Della guerra Nel deserto Con i carri L3 Poi con i carri M13 M14 E si fece In buona sostanza Quasi due anni e mezzo Consecutivi Sul fronte nordafricano Invece Mio bisnonno Fu un fante Che prese parte Alla grande guerra Anche Un giovanotto Insomma Eh sì Anche nella tua famiglia Non è mancato niente Come sia Allora Io tanto Ti dico Ti annuncio Che Sicuramente Faremo Praticamente Lo stesso giorno In cui andrà in onda Vacanza la radio Eh Un'ora prima Metteremo Appunto il programma Eh I figli del piave Così avremo modo Di passare Ben due ore Insieme Il mercoledì E Tutte le puntate Saranno pubblicate Nel palinsesto Di radio vacanze In modo disponibile A tutti Poi te le faccio avere Così anche tu Le potrai diffondere A Agli amici E chi vuole intervenire Mi raccomando L'aviatore L'aviatore Luca non deve mancare Anche lui Verrà coinvolto In questo Sicuramente Lo farò presente A mio caro amico Luca Con gli elmetti Ecco Mi raccomando Ci vuole anche lui Allora Intanto io ti porgo I miei saluti Ti ringrazio Per l'onore Di averti Autospite Ringrazio anche Il comune di Brandisse E il bellissimo libro Che ho ricevuto Che mi ha mandato Mancava la grappa Ma ti vogliamo bene Lo stesso Non è terra di grappa Però è più terra di vino Eh vabbè ma non è arrivato Niente lo stesso È ragione Prossima occasione Prossima occasione Verrà Io vi auguro Che venite presto a Roma Con un barbera Con un bel barbera Ecco come Proprio lo facciamo Come una volta In trincea Che quando si tornava da casa Si portava tutto quello Che si poteva condividere Con i compagni Perché era veramente questo E qui Chiunque viene A nome Ascoltatore A nome dell'Italia Ascolta il Piave Chiede ospitalità Qui a Roma Verrà trattato In maniera Completamente diversa Perché è comunque Un altro italiano Che torna a casa E questo per noi È un segno di distinzione No? Come dicevamo sempre Allora di nuovo Grazie Andrea Grazie tanto Un saluto da me E da Enrico Grazie Buona serata Grazie E allora Un arrivederci A voi E a tutti A risentirci A tutti i radioascoltatori Mi fa piacere Ciao di nuovo Allora Con il saluto Al nostro amico Andrea Rebbora La penna Dell'Alpino In attesa Di tutti i bellissimi canti Che la Brigata Alpina di Tentina Vorrà concederci Se il sangiere A cento penne Ma l'Alpina A una sola Un po' più lunga Un po' più mora Solo l'Alpina Può portar L'Alpina di Tentina Quando scende La notte nera Tutti i doni Tornano giù Alla piede Ma con la faccia Nella neve Solo l'Alpina Può dormire La sui monti L'Alpina di Tentina La tormenta L'Alpina di Tentina L'Alpina di Tentina Ma se venisse Anche l'Inferno Solo l'Alpina L'Alpina di Tentina L'Alpina di Tentina E se da una rube cade Non piangere Non piangere I vostri cuori E con la faccia Inferno ai fiori Cosa importa Se si muo' E con la faccia Inferno ai fiori Cosa importa Se si muo' Stai ascoltando Il programma radiofonico L'Italia ascolta il Piave La voce Dei nonni in grigio verde E ci siamo Ci siamo ancora Siamo qui Dalli studi Della radio vacanze Presso l'agenzia Via Giovedo Via Bartolo Longo 1 Ringraziandola Come sempre Che ci ospita La sera Che a quest'ora Si trasforma In un immenso studio radiofonico Anche davanti Ai nostri amici Che sono qui A fare il loro lavoro E li ringraziamo Perché entriamo dentro Proprio In maniera quasi Iroente Allora volevo provare Se il nostro amico Leonardo Malatesta Anche per un semplice saluto Perché anche lui Ha fatto Ha contribuito parecchio Alla costruzione Del programma So che era impegnato Vediamo se riesco A trovarlo Anche per due secondi Se no gli mandiamo I saluti E lo risentiremo Sicuramente a breve Ecco Non ce la fa Va bene Allora il nostro amico Leonardo Malatesta Sarà per la prossima volta Lo chiameremo Perché ha fatto Dei bellissimi Libri Anche sulla Sia 33 libri Sulla prima guerra mondiale E addirittura Più di 6-7 Sulla Sulla seconda Incluso Quello sulla guerra Fedda Waystar Che è l'ultimo Che ha fatto Bene Proviamo invece A chiamare Come il nostro amico Vincenzo Di guida Della Cruce rossa Militare Vediamo un po' Se è all'ascolto Vincenzo Vincenzo Buonasera Ben trovato Come stai? Bene De raccontare Un aneddolo Che sentiva Prima Paolo Cervone Non so se tu hai fatto Un tempo Perché so che avevi Da fare No purtroppo Ecco Ti dico Allora Mi spiegava Che tanti bambini Nati A cavallo Della prima guerra mondiale Subito dopo Si chiamavano Firmato di nome Perché molti Soldati Nella loro Diciamo Bontà Credevano Che il nome firmato Perché c'era scritto Firmato Diaz Firmato Badoglio Era un nome Perciò davano il nome Cioè Ma spaventato Per Paolo Cervone E' terribile Quando va a scovare Queste notizie Incredibili Poi Poi mi ha raccontato Come mi hai detto Anche tu Che molti Dei nostri ragazzi Che cadevano prigionieri Dai governi Erano considerati Traditori Quando invece Questi ragazzi Porelli Tutti l'avano fatto Te l'hanno Che avevi tradito Insomma Durante la prima guerra mondiale Se tu Come ti ricordi Come sicuramente è Sai benissimo Che gli altri comandi Avevano Un'idea Diciamo delle truppe Di cotardia Pensiamo alla disfatta Di Caporetto Dove nella buona sostanza I soldati Vennero Tacciate di cotardia Mentre invece Fu la catena di comando A interrompersi E quindi produrre Lo sbando Delle truppe E come no Ecco quindi In effetti Questo è un po' Il discorso Per quanto riguarda Il discorso Dei bambini Sì ma Dobbiamo ricordare Anche Tutti i bambini Nati A seguito Degli stupri Che furono fatti Da parte Delle truppe occupanti Diciamo così Nelle varie parti Ora italiane Ora austriache Che invece Vennero Poi riconquistate All'Italia E molti di questi Bambini Furono Disconosciuti Dalle stesse madri Perché Ovviamente Era una vergogna A quel tempo Pensare Che anche se Non consensienti Avessero Avuto dei bambini Al di fuori Casomai Del letto coniugale Diciamo così Certo Ci sono Vedi anche Tanti di questi aspetti Che uno Non ne avevamo mai parlato Ma sono stati determinanti Anche quello È un dramma Per tante persone Insomma Non era sicuramente Facile Hai fatto bene A ricordarlo Perché È un dramma Importante Molto Diciamo che Furono istituiti Infatti Molti orfanatrofi Perché appunto Questi bambini Nascevano E venivano poi Abbandonati Dalle stesse madri Che erano incapaci Naturalmente Di poter Rappresentare Al proprio marito Una volta tornati Alla guerra Insomma L'esistenza Di questo bambino Nato al di fuori Del matrimonio Per una violenza Subitata Stasera Stasera In ciusura di trasmissione Stanno uscendo delle cose Che sono bellissime Vi ringrazio Ma sia io Che Enrico Che ti sta ascoltando E ti saluta Anche lui Grazie Buonasera Buonasera Ciao Ciao E rimaniamoci Guardiamo in faccia Stiamo scoprendo Veramente Una cosa Dietro l'altra Importantissima Perché poi Questi bambini Hanno avuto una vita Una storia Chiaramente Partono in salita Un bambino Un bambino che viene abbandonato Un orfanatrofio Una vita che parte in salita Ma notevolmente in salita Voglio dire Si è ripercorsa poi questa situazione Per almeno un paio di generazioni dopo Insomma Per capirci Certo Certo Non ho dubbi a riguardo Senti Tu che cosa farai Per il 4 novembre Carissimo amico mio Ma guarda Il 4 novembre Noi abbiamo Sicuramente Parteciperò A delle celebrazioni Certo Nella buona sostanza Qui in zona Abbiamo già Diversi inviti Da parte di alcune Amministrazioni comunali Una Mi piace ricordarlo Come no Castellammare di Stabbia E l'altra invece Che è in provincia di Napoli L'altra invece Di Rubiano Che è in provincia di Caserta Non credo che parteciperò A una delle due manifestazioni Siamo restando Che a Napoli Dove mi trovo Comunque Si fanno delle manifestazioni Naturalmente Però a Napoli Già ci sono Delle persone Che ci vanno E quindi Preferiamo essere presenti Anche In posti Dove casomai Certo Non ci sarebbe nessuno Non ci sarebbe nessuno No 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 Noi annunciamo Agli amici dell'ascolto Che sia io Che Enrico Domenica 4 novembre La mattinata Saremo comunque presenti All'altare della patria E faremo anche Una diretta Proprio da lì Ecco Perciò Ognuno va Dove lo porta il cuore In poche parole Voglio dire No Ci mancherebbe È vicino Ti ripeto Ci siamo un po' divisi I conti Certo A livello regionale In modo da poter essere presenti Quanto più possibile Comunque Considerando Ti volevo dire Ti volevo dire Questo Che abbiamo superato I 40 mila ascoltatori Con questo programma Grazie Grazie a tutti Veramente Un grazie enorme E addirittura C'è stato È tutto tuo Come si dice In trincea Ci si va tutti insieme Ah quello sicuramente No ti volevo dire Che ci sono stati Ascoltatori Che mi hanno E altre radio Che mi hanno scritto Ma come Non va più in onda Per carità Si erano già allarmati No 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 Saremo sempre qui No Io te l'ho detto In diverse occasioni È una trasmissione La tua Che Come dire Se non ci fosse stata Sarebbe stato necessario Inventarla Perché veramente Ha colpito nel segno E ha suscitato l'interesse Di tante persone Anche di tanti ragazzi Avvicinandoli Ai fatti storici Che probabilmente Non avrebbero mai conosciuto Perché Diciamola tutta La scuola italiana O mette poi Su certe questioni Va per le grandi battaglie Va per le grandi cose Ma casomai Nei fatti di vita vissuta Minuta Insomma Nei dettagli Che poi sono quelli Che fanno veramente La storia Casomai È un pochino Dimentica Quindi È grazie alla tua trasmissione Che invece Tutti questi dettagli Sono occhi fuori E spero Che potranno Servire Per evitare Una nuova sciagura Come questa Insomma Essenzialmente Mi auguro Mi auguro Le battaglie Sono un po' asettiche Quando poi Invece Ti confronti Con le persone Cominci A sentire La puzza Della trincea Il freddo Insomma Tutte le varie difficoltà Che veramente Ci sono state E le persone Cominciano a capire Forse un poco poco meglio Sia pure E sempre Bisogna raccontarla Ma quelle che Deve essere stato Questi tre anni Di vita Di trincea Che scherziamo Intanto Mi voglio unire Insieme a te E ad Enrico Che ha conosciuto Il sottotenente Eccomi qua Eccomi qua Ti volevo dire Voglio unirmi Insieme a te A ringraziare Antonio Lante Da Conegliano Veneto Che ha mandato Una foto Di suo Bisnonno Che era Il sottotenente Pierre Liberale Ferris Ragazzo del 99 Ed è L'uff Sottotenente L'ufficiale Che è Nella copertina Del DVD Che Enrico Ha elaborato Per il terzo Gruppo Artiglieria Se momento E' un sottotenente D'artiglieria Da montagna Va bene Questo lo perdoniamo Un po' Però ecco E' un personaggio Realmente esistito E' bello dare un volto Poi a questi nomi Come dicevi tu Ed è Veramente Eccezionale Dunque allora Io ti ringrazio Ringraziamo il colonnello Scrofani Non ce lo scordiamo Perché se no Ci scomunica Io il colonnello Scrofani Lo devo sentire Proprio in questi giorni Credo Forse addirittura Già domani Ecco Gli rappresenterò I tuoi saluti Ricordo a tutti Che lui è stato Ufficiale Di artiglieria E tu sei stato artigliere Quindi siete Con militoni Della stessa arma E quindi Il cuore va sempre là Non c'è niente da fare I saluti tuoi Gli arriveranno Ancora più gratifica Sicuramente È una persona eccezionale E te l'ho detto Ce lo diciamo Un sacco di volte Figlio d'arte Perché papà pure È stato Un militare Di grande espressore Di tantissime espressore Grande uomo Di segnito Di varie riconoscimenti Di varie motorifigenze Quindi voglio dire Personalmente conosciuto Abbracciato Stimato Veramente È un grande uomo Per carità Per carità Allora Come si dice Vedendo questa gente Poi ti guardi intorno E ti dici qual è l'Italia vera Perché io proprio Non la riconosco più Scusate ma Qualche sassolino Bisogna pur torcerlo Torcerlo No che dici Allora grazie a te Vincenzo Saluto veramente Di tutto cuore La Croce Rossa Il Coronero Scrofani E un abbraccio di nuovo E ci risentiamo Per i figli del Piave Un abbraccio ancora Un saluto anche da Enrico Buona serata Buona serata Buon proseguimento di vita Grazie a tutti Grazie a tutti gli ascoltatori Ciao grazie Allora Con il nostro amico Vincenzo Di Guida Ufficiale Sotto ufficiale della Croce Rossa Noi andiamo A sentirci Un'altra Bellissima Canzone Che Del coro Degli Alpini La canzone Del Piave Di qua e di là C'è un'osteria Che è cantata Anche questa Dal coro Ana Roma Di qua e di là Del Piave Ci sta un'osteria Di qua e di là Del Piave Ci sta un'osteria La cena Dopo aver mangiato Mangiato e ben bevuto E dopo aver mangiato Mangiato e ben bevuto Voi bell'amora Se vuoi venire Questa è l'ora Di far l'amor Voi bell'amora Se vuoi venire Questa è l'ora Di far l'amor Mi si che venia via Per una volta sola Mi si che venia via Per una volta sola Solo ti prego Lasciarmi sola Che son figlia La marità Solo ti prego Lasciarmi sola Che son figlia La marità Se sei la marità E dove mi dirlo prima Se sei la marità Dove mi dirlo prima La marità Perché sei stata Poi veci alpini Novinola Colonnello Vediamo Un fante Anzi il direttore Della rivista del fante So che sta presidiando Una cerimonia Ma noi lo andiamo A disturbare Come Noi speriamo Che abbia voglia Abbia la voglia Abbia la possibilità Di risponderci Perché è un carissimo amico Del programma So che sta Veramente facendo Veramente facendo il possibile Per venire ai microfoni De questo nostro programma Sta presentando Una manifestazione Determinante Ecco purtroppo Lo riproveremo a chiamare Prima della fine del programma Se ce la facciamo Intanto andiamo avanti Con un altro ospite Massimo Neri Anche lui Amico del programma Come posso dire Ha portato come me In giro Uno spettacolo Importantissimo Che parlava appunto Con i sonetti Della grande guerra Ha fatto conoscere Anche lui Un pezzo di storia patria A tutti i ragazzi I bambini E' molto e molto E' molto importante Quello che ha fatto Massimo Neri In questa Tra In questi quattro anni Anche lui Molto lunghi Cinque libri Sulla grande guerra Ciao Massimo Benvenuto In trasmissione Come stai? Bene bene Tutto bene Grazie E' stata una cavalcata Bellissima Un'ora e mezza Tanti amici Tanti ospiti Niente da dire Proprio Allora Eccoci qua Per il tuo sonetto Importantissimo E ricorda poi Gli appuntamenti che hai Sì Sicuramente Come tutti sanno Ricorre il centesimo Anniversario Della liberazione Di Vittorio Veneto E quindi Il sonetto Non poteva essere Che quello Dedicato A Vittorio E dice A te Vittorio Terra d'eccellenza Che hai visto Le tue case profanate Le tue strade Dal nemico Carpestate E il tuo popolo Ridotto all'obbedienza A te Vittorio A te Vittorio Stilpe De valore Che con la dignità E la fermezza Hai sopportato Tutta la tristezza De stanando in mano All'invasore A te Vittorio Icona del conflitto Che della storia nostra Sei memoria E tale Rimarrai Nel marmo Scritto A te Vittorio Che la battaglia Consacrata Che il nome Ci hai legato Alla vittoria E della patria Sei il cuore appassionato E beh Come sempre Tu arrivi dritto Al punto Senza Senza proprio Fermarsi Come un treno Per chi Sveglia Cioè Dai la sveglia In poche parole Cioè Vuole dire Sei italiano Oppure C'hai il sangue Così Ad acqua di rose E tu riesci A prenderlo Proprio Giusto C'è anche Enrico Che ti sta ascoltando Qui Buonasera Massimo Anche lui Romanaccio Come te E come me Però è un grandiale Di Sardegna È alto un chilometro Infatti Quando andiamo in giro Non c'ho bisogno Del drone Basta che alza le mani E riprende lo stesso Poche parole Senti Il tuo spettacolo Come va? Il spettacolo va bene Adesso abbiamo programmato L'ultima replica Il 25 di novembre Indovina dove Vittorio Veneto Ci mancherebbe Chiaramente Si chiuderà il cerchio Dopo cinque anni Di repliche Direi Con grande Successo E grandi emozioni Chiaramente Come tutte le cose Deve arrivare A una fine Però ci tenevo Che questa fine Fosse proprio A Vittorio E così è stato Sono contento Allora Ti lascio Il tuo Lavoro La preparazione Mi raccomando Manda dei bei video Di questa nostra Trasmissione Che li trasmetteremo Come sai La nostra storia continua Con i figli del Piave Dunque Sarà veramente Una bella Cavalcata È soltanto Una fase che cambia Niente che si chiude Non lasciamo mai Nessuno indietro Com'era No? È così Per forza Allora Mi raccomando Anche la tua compagnia Che noi abbiamo sempre detto Ma insomma Sono delle bravissime attori Insomma Neanche a parlare Intanto Mi scrivono Che hanno ascoltato il programma Io li ringrazio Però sono veramente Vogliamo citarli Perché chiaramente Le persone Devono conoscere Enzo Samaritani E Maria Grazia Di Donato Questi sono i miei Ormai Amici inseparabili Colonne Portanti Di qualsiasi mia Attività culturale Eh beh Ci mancherebbe Se non merito tutto Allora grazie a te Buon proseguimento Di serata Ancora E un grosso augurio Per ogni cosa Per ogni bene Ci risentiamo Per le prossime Ciao di nuovo Ciao Massimo Ciao Ciao Allora Eccoci qua Ancora una volta Proviamo a ritiamare Il nostro amico Il colonnello Savino Vignola Che appunto Nella sua Manifestazione Come dicevo Ve l'ho annunciato Anche la volta scorsa E' in una presentazione Determinante Perché è un evento Importantissimo Voglio andarla a ritrovare Sulla sua pagina Facebook Perché chi l'avesse visto C'è uno scultore Addirittura del Salento Che ha messo insieme Ha fatto diventare bellezza I costumi I costumi della Grande Guerra Un evento Veramente Eccezionale Vediamo se riusciamo A farcelo dire Anche da lui Perché ovviamente Il programma Svolge al termine E non lasciare Mi piacerebbe Proprio appunto Che vi raccontasse un po' Tutto quello che è Il suo programma Vediamo Squilla il telefono Se ce la fa Il nostro Savino Perché Dividersi in due È solo dono Di Padre Pio E lui Già ha fatto Veramente tanto La manifestazione Che sta presidiando Si sta svolgendo Al palazzo Circolo Unificato dell'esercito Presso il palazzo Zacco Armeni Vediamo Ecco Purtroppo Purtroppo Non ci riusciamo Non ci riusciamo Manca Pochissimi minuti Proviamo A vedere Se invece Ce la facciamo Con la madrina Del programma La Lago Zacchine Vediamo Uno delle due Se riesce a venire Al telefono Della radio Se no Li lasciamo andare A loro Ecco Alla loro Manifestazione Io vi ricordo Che Lo scultore Che si chiama Cavaliere Gianni Mazzacolli È un ufficiale Di cavalleria Ha preso A cuore Il raccontare Come È una mostra Sulla Parliamo Ecco Artistica Mi viene Non difficile Ma È talmente Forte La Ecco L'espressione Che hanno Le sue Statuette Che veramente Ricordano Quelle del Presepe Partenopeo Con Le uniforme Storiche Tutte in Carta Pesta Della prima guerra mondiale Veramente Qualcosa di Particolare E Secondo me Sotto la Presidenta Nazionale Del Fante L'architetto Gianni Stucchi E Ovviamente Il nostro Amico Savino Vignola Hanno fatto Uno splendido Lavoro Mi auguro Di riaverli Presto In trasmissione Perché Ovviamente Ci tenevamo A salutarli Ma Probabilmente Stanno Lavorando Ecco E Ricordo Lo scultore Salentino Gianni Mazzoccolli Ecco Correttamente Mi fa notare Il fonico La pronuncia Gianni Mazzoccolli Vediamo Se c'è Anche Un sito Dell'artista Ma Se scrivete A Radio Vacanze Di Orciola Gmail Punto Com Avete Sicuramente Modo Di Ascoltare Allora Non potevamo Che Chiudere Con La Prediera Del Soldato Italiano E Poi Ovviamente L'Inno Del Piave Che È Per noi Determinante Allora La canzone Del Piave E poi I saluti Noi Qui A Vacanze Alla Radio Il Piave Mormorava Calma e placida Il passaggio Che i primi Pampi Il 24 Maggio L'esercito Marciava Per raggiungere La frontiera Per far contro Il nemico Una Carriera Non Passaron Quella Notte I Pan Lì A Cere Bisognava E Andare Avanti L'esercito il mormorio dell'ombre, come un signotto in quell'autunno nero, il piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico, per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano abricco di lassù, voleva ancora sfamarsi e trifudiare come allora. Noi sei il piave, novi sarai fanno qui, mai più il nemico faccia un passo avanti. E si vede il piave di gonfiare le sponde, e come infanti combattivano le onde, l'osso del sangue del nemico altero, il piave comando indietro da straniero. Indietro è già il nemico, fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il tappo un vivo, tra le schiere furono visti risorgere, o Berdano, Sauro, Battisti, in Francia al fin l'italico valore. E porca l'armi dell'indicatore, sicura l'albi, libere le sponde, e d'acqua in piave si placaron le onde, sul patio suo, tutti dormi feri. La pace non te lo, ne ho persi dei stranieri. Preghiera del soldato italiano, Signore e Dio degli eserciti, cui per dovere apparteniamo, purificaci d'ogni bruttura, perché in quest'ora, d'odio selvaggio, la nostra preghiera salga a te, bianca, siccome quella dei nostri bambini. Guarda, Signore, noi non ci siamo schierati col forte offesa del debole. Noi non eccita allo sterminio, ambizione d'impero. Noi non vogliamo mettere a sacco e a fuoco le terre altrui, ma le terre d'Italia son fatte per noi. Tu ce le hai date. I nostri vecchi le han fatte libere, da giogo secolare a prezzo del loro sangue. E se venga il giorno che noi dobbiamo combattere ovunque, per esse, benedici, o Signore, le nostre armi, il nostro Re, schiatta di valorosi e di santi, e dacci la vittoria, e dacci una rama d'ulivo per i nostri figlioli, per le nostre donne, per la tomba dei nostri vecchi. Aprile 1915. Come promesso la preghiera del soldato italiano, abbiamo leggermente sforato. vi ringrazio a te, mi fa veramente felice di aver condotto per questi quattro anni la puntata di questo programma, Italia Ascolta il Piave. Ringrazio la madrina del programma, Alessandra D'Agostino Zacchin, ringrazio Enrico Ilfonico, qui dietro a me, e ringrazio il colonnello Furio Cellati, già comandante del terzo gruppo artilleria, semovente Pastrengo da dove anch'io provengo, il coro della Brigata Alpina Tridentina, anche il coro Anaroma, ecco prendiamo, colonnello buonasera, siamo ai saluti finali, buonasera comunque, ben entrato nel programma. Buonasera, e chiedo scusa per, non ti preoccupare. Non è un ritardo, ma compiti istituzionali, è qui, è l'inaugurazione della mostra, che ha avuto un grande successo, la partecipazione del Lions Club di Rubano, di Assoarma Padova, dei carristi di Verona, che sono venuti anche, c'è stata la madrina, Alessandra D'Agostino, esatto, mi dispiace, comunque abbiamo gettato le basi per il domani, perché ovviamente noi eravamo ai saluti, per entrare con l'altro programma, io volevo ringraziarti, perché ho parlato di voi nella trasmissione, mi raccomando ormai, questo numero è tuo Savino, per il prossimo programma, I figli del Piave, sicuramente, intanto abbraccio tutti, mi raccomando, in particolar modo, l'artista è stato veramente un piacere, anche parlare di voi, allora continua a seguire il programma, intanto buona festa a tutti, e alla prossima, ascoltati, perché in questo momento, abbiamo la cena sociale, vai alla grande, senza altro, ciao di nuovo, niente, ciao, allora come vedete abbiamo il piacere, la nostra diretta è fatta anche di questa, allora signori, come sempre, alla fine di ogni nostra trasmissione, in piedi, entra Goffredo, e noi ci vediamo nella prossima sponda. fratelli Italia, Italia, Italia sedesta, dell'elmo di Scipio, se città la testa. Doverà l'Italia, l'epoca, la chioma, il schiava di Roma, il Dio l'acqua, Parabà, 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 Parabà. L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde. Ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni che ti dà appuntamento a martedì prossimo su www.radiovacanze.com